A Udine la Juventus vuole chiudere i giochi e cucirsi sul petto il nono scudetto consecutivo. La squadra di Gotti però sprofondata al quarto ultimo posto della classifica non può regalare punti. Fuori l'ultimo Lasagna per un affaticamento in attacco Okaka e Nestorowski. Cambia anche Sarin, difesa Rugani al posto dello squalificato Bolucci e Danilo per Quadrado. In avanti, intoccabile il Di Gualdo a completare il tridente Bernardeschi preferito a Douglas Costa, arbitra Irrati di Pistoia. Quarto minuto subito Juventus in avanti, Rolando lascia sfilare per Bernardeschi, indietro per CR7 che si gira, centrale blocca Musso. La risposta dell'Udinese, sema sulla sinistra, la mette dentro il copo di testa di Danilo e palla che si stampa sul palo. Sfiora l'autoretile brasiliano, Scesni non ci sarebbe mai arrivato. Quattordicesimo, corner per la Juve, allontana la difesa dell'Udinese. Ramsey prova la conclusione, ribattuta, palla buona per Dybala, Musso in calcio d'angolo. Ritmi bassi ma continui capovolgimenti di fronte. Palla per Sema che carica il sinistro, la forza c'è, la mira invece no. Vintiseiesimo, Dybala dentro, la finta di Rabiot, Ronaldo di prima intenzione sul fondo, prova ad accendersi la Juventus. Ronaldo vuole lo scudetto ma vuole anche il titolo di capocannoniere. Imposta De Ligt da dietro, Udinese tutta rinchiusa nella propria metà campo. Avanza l'ex Ajax, lancio profondo per Dybala, stop e tiro in caduta. Anche qui però il pallone si perde sul fondo. Dall'altra parte, Okaka per De Paul, interviene Rabiot, ancora De Paul in area, a teckel di Ramsey, va giù De Paul ma il rati vicissimo fa proseguire. Poi Sema col mancino, Scesni la tiene lì, protesta l'Udinese ma vede bene l'arbitro, non c'è contatto. Quarantunesimo, Rabiot, la butta dentro, di testa Trostecong, palla sui piedi di De Ligt che carica il destro e trova l'angolino giusto. 1-0 Juventus, tutti aspettano Ronaldo di Bala e invece la sblocca Mateis De Ligt. Juventus in questo momento ha più 9 sull'Atalanta, irraggiungibile per tutti. Quarta rete stagionale per De Ligt, il più giovane in campo con i suoi 20 anni in tribuna. Applaude anche capitane Chiellini, con il primo tempo si chiude qui, con il montaggio di Sara Ronchi. Passiamo alla ripresa, Nestorowski calcia col destro, non è il suo piede, si vede. Immediato capovolgimento di fronte, Ronaldo in area, non trova lo spazio per la conclusione. Appoggio per Di Bala che prova a piazzarla ma non inquadra la porta. Settimo minuto, attacca Sema da sinistra, crossa sul secondo palo, Nestorowski è liberissimo e non sbaglia. 1-1, gran gol di Ilia Nestorowski ma gran parte del merito è di Sema, ottimo il suo cross. Settima gara consecutiva in cui la Juventus subisce almeno un gol. Gelata la panchina e allora Sarri decide di cambiare fuori Ramsey e Bernardeschi dentro Matuidi e Douglas Costa. Di Bala, allarga per Alexandro. Alexandro indietro per Di Bala, l'argentino prende la mira, plastico musso. Passano i minuti, trentesimo Douglas Costa taglia il campo, la gira su Ronaldo. Ronaldo carica il sinistro, pallone in curva. 92esimo, Juventus è tutta avanti, contrasto aereo, palla buona per Fofanà che parte in contropiede. Delicte non riesce a frenarlo, Fofanà si fa tutto il campo, entra in area e batte Scesni. Clamoroso 2-1 Udinese. Padroni di casa che ribaltano la partita e compiono un passo decisivo verso la salvezza. Gelato Chiellini in tribuna, gran gol di seco Fofanà, ma disastrosa la difesa juventina. Finisce qui con il successo dell'Udinese, Juventus che non sfrutta il primo match ball. I padroni di casa invece si avvicinano, compiendo un passo forse decisivo alla salvezza. Che dire, per l'ennesima volta la Juventus si è lasciata rimontare. Di fatto abbiamo rivisto la stessa partita di San Siro contro il Milano. Juventus che va avanti, si accontenta, non riesce a chiuderla e poi subisce il ritorno degli avversari. Domenica allo stadion arriverà la Sampdoria. Intanto l'Atalanta resta a meno 6. Per il momento è tutto a voi.